La procura di Pescara ha iscritto quattro persone sul registro degli indagati per turbativa d'asta in merito alla gara di aggiudicazione della gestione delle piscine Lenaia di Pescara. Si tratta di Donato Cavallo, direttore generale dell'Arecom, Riccardo Fustinoni, dirigente club acquatico Pescara, Vincenzo Serraiocco, proprietario della società che ha stilato il piano economico del club, e Gianluca Cieri, broker che ha promosso la garanzia fideiussoria dell'operazione. Secondo quanto si legge nell'informazione nel decreto di sequestro, emerge con sufficiente nettezza che la gestione della gara è stata caratterizzata da plurime violazioni della normativa di settore, che anche alla luce della presentazione da parte della società aggiudicatrice di una falsa garanzia fideiussoria provvisoria in favore della stazione appaltante, inducono a ritenere allo Stato che la gara sia stata effettivamente turbata dagli indagati. Sotto esame anche l'affidamento in via d'urgenza della struttura pescarese, nonostante non fossero scaduti i termini della gara. Nel provvedimento si legge quindi che la stazione appaltante ha palesemente favorito il club acquatico Pescara, ponendo a carico della regione Abruzzo, in assenza di autorizzazione previa copertura finanziaria, gli elevati costi derivanti dai consumi di energia elettrica, acqua e gas per i suddetti. Quattro mesi.